Io mi viene in termini una sola parola per parlare di questo evento, formidabile, una cosa meravigliosa, 200 location, 400 pianisti, questo concerto unico al mondo dei 21 pianoforti all'aperto sotto il colonnato di piazza del plebiscito, tra l'altro quest'anno su una musica classica rielaborata anche dai nostri giovani musicisti del conservatorio, posta per questo fatto del tutto singolare di fare suonare a 21 pianoforti la stessa sinfonia, la stessa melodia, la stessa musica. Abbiamo parlato di piazza del plebiscito ma la base operativa è il maschio angioino, questo luogo del potere, dei suoi conflitti, insomma una connotazione un po' guerresca che io dico che in questa occasione diventa invece un grande messaggero di pace, un grande luogo attraverso cui la musica diffonde da Napoli il suo messaggio di pace, di incontro.